Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Universal Abbey, io sono Andrace e oggi non c'è nessuno qui con me e siamo sempre su Aerotrack Simulator, scusate ho avuto un piccolo inconveniente, accendiamo i motori, vediamo i camion di oggi, un bel man, lampeggia, suona? Un po' debole ma suona, via, via, bene bene bene, oggi dove siete dovreste andare? A Genova, portiamo dei mobili, quindi ragazzi occhio, ehi ehi ehi, perci a sinistra, via si parte, eh guarda tu aspetti i barbagiani questi, mi viene addosso e mi incazzo, eh quasi, eh, ci siamo toccati, colpa sua, sempre colpa sua, poi ci abbiamo anche un bel pieno di gasolio, quindi a voglia se ci basta, bisogna girare a sinistra, quindi andremo a sinistra, depravato, guarda, ora a freddi, oh è verde, si gira, tutto gas, davanti tutta, un'altra volta rosso laggiù, madanna, madanna, oh è verde, è verde, è verde, è vero, corri, 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 frena, 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 ma c'è la curva, ok, una volta prese le misure vi viene da solo il fare le curve, concessionaro scania, ah si, concessionaro è lì, oh oh, mai guarda la strada, Ora bisogna girare a sinistra Oh, mi manca la nuova email Dopo la andremo a leggere insieme Si può leggere qui? No Ah, che cazzo serve Via, via Bene, bene, giriamo Giriamo Eccoci qua Rifacciamo il tunnel dell'altra volta E' lo scorso episodio Facciamo i fari Lampeggiamo un pochino quello davanti Un altro pochino Forse non si è ne accorto di noi Ora forse si Attenzione agli autovelox Questo giro va fatto senza autovelox qui Quindi 50 fissi Piano 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 Pediamo i fari che non serve Anzi no Lasciamo le di posizione va Casello Sì sì Anche se non c'è il telepass Arrivo sempre lungo Corto Non lungo Corto Via 38 euro Buongiorno Ah non c'è nessuno Via C'è qualcuno di qua a destra No C'è qualcuno a sinistra No Ricordatevi le frecce Però qui la scuola guida vi boccia no Andiamo a giro No Usiamo Un po' di giro 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 uh la rotonda che bella dove si entra via via c'è nessuno ecco si entra da qui in fabbrica oh questo è più semplice rispetto allo scorso episodio va giac giac spero sia più semplice giac vediamo se riesco a farlo senza usare l'episodio da fuori quando si giocava spesso ero capace forse anche ora sai gira gira calma calma vai zac tac e che camionista nabbo vediamo se saliamo a livello 2 no al prossimo viaggio saliamo di livello ora abbiamo la nostra image la leggiamo novità volvo in vendita a perugia forse un giorno ci andremo qua come potete vedere c'è scritto il mio camion se andate su acquista camion ci sono tutti i concessionari da sbloccare su tutta la mappa per esempio l'ho sbloccato qui a perugia e qui lo scanio del scorso episodio c'è anche uno a genova forse quel punto di domanda sulla mappa quindi ragazzi il video è finito ci vediamo al prossimo viaggio ciao ciao ciao